Allora, trattasi del primo forcino dell'anno, del primo ma insomma penso già sia uno dei più belli, qui c'è Katia e la Bruna che lo stanno guardando, lo stanno visionando, io ora glielo cavo e loro lo colgono, vieni, sei sempre convinta sia un verro? Sì, è un verro, un verro. È un verro, vai, è un verro, c'è il gambo rosso, l'ho visto io. Vai, cavali mori, guarda un po' il gambo rosso, è un verro, 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 dove sei? Tieni, forza, che le faccio a voi due, vai, 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 un bel berretto, è un verro, un bel berro. Ah, ah, toh, vai, tagliamo anche questi, toh, tieni, mi faccio un po' come insieme, vi, forza. No, a me non mi riprende. Eh, dai, pigliate questi, tieni. Sa di verro, vero? È quasi un verro, vai. Siamo alle ghigne, addirittura la rabbia, il verro, vedete. È un verro, vai, insieme, insieme, vedete che è un verro, guarda un po', guarda un po', guarda un po', tutto ruolo. Guarda un po', guarda un po', tutto ruolo.